Innanzitutto dovete essere molto più furbi della media, seconda cosa aprite un canale e mettete 4 video di gattini finché non raggiungete circa questa cifra di iscritti. E vai! A questo punto un ginese dovrebbe già avervi contattato, aspettate una settimana ed ecco il prodottaccio. Purtroppo fuori piove, beh, useremo le nostre piantine da youtuber. Andateci giù pesante con le scarrellate perché comporranno il 70% della vostra recensione. A questo punto accendete se ci riuscite, sblocco e procedete nelle impostazioni e fate notare di quante funzioni questo dispositivo è dotato. A questo punto andate in fondo, premete 8 volte e godetevi questa schermata per un minutino. Non dimenticate, mi raccomando, il test sul browser perché è veramente importantissimo. A questo punto dovete testare la fotocamera, ecco qui il soggetto, ecco qui le foto e bam, 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 5, 6, 4, visto che siete i professionisti lo comparate con la realtà e vedete che è ottima. Prendete il dispositivo, lo mettete, lo imballate e lo andate a vendere su subito.it e ovviamente passate al prossimo.